Numero 7, regesso dell'azienda speciale consortile dei servizi alla persona di breve trasferimento delle competenze per la gestione dei servizi sociali all'Unione dei Comuni Antichi Borghi di Valle Camoni per i sensi dell'articolo 3 dello Statuto dell'Unione. Potremmo fare il numero 8, contestualmente, trasferimento delle competenze inerenti alla gestione dello sportello unico per le attività produttive sua all'Unione dei Comuni Antichi Borghi di Valle Camoni per i sensi dell'articolo 3 dello Statuto dell'Unione. In sintesi, avendo aderito all'Unione degli Antichi Borghi, noi riceviamo sia dall'azienda ASTP, l'azienda speciale del territorio per i servizi alla persona e dal suo appello sportello unico delle attività produttive, trasferiamo tutte le competenze all'Unione, poiché abbiamo verito questo. È di fatto anche questo un passaggio tecnico che però va ovviamente deliberato dal Consiglio Comunale perché precedentemente noi avevamo assunto impegno tramite il Consiglio dell'Unione dei Comuni Antichi Borghi di Valle Camoni. Recesso sull'azienda speciale e consultive per i servizi alla persona, con trasferimento all'Unione degli Antichi Borghi, favorevoli, astenuti, contrari a nessuno. Trasferimento delle competenze inerenti alla gestione dello sportello unico delle attività, a numero dei comuni, favorevoli, contrari, astenuti.